il mio cuore siamo tornati a fare un altro servizio evangelico in casa e per questo preparate l'acqua da diluire può essere un bicchieri una bottiglia e qualsiasi quantità e potete berla per tutta la settimana questa acqua sarà fluidificata dagli spiriti buoni che sono riuniti con noi in questo momento diciamo la nostra preghiera questa preghiera si chiama preghiera la bricciola signore quando qualcuno è in preghiera riferendosi alla carità fa che qualcuno si ricordi di me perché anch'io possa aiutare in tutto il tuo nome quante creature mi fissano indifferenti e quante mi abbandonano per spazzatura inutili dicono che sono una moneta insignificante che non serve a nessuno tuttavia mi desidero diventare la goccia di medicina per il bambino malato mi gettano da lontano quando appaio sotto forma del pezzo di pane rimasto sulla tavola tuttavia aspiro ancora a fare la gioia di coloro che piangono per la fame molti mi considerano un vecchio straccio per il moccio ma io voglio avvolgere chi attraversa la notte pelle al vento per diventare la zuppa generosa e di cibo e di conforto per chi giace da solo sul paliericcio di sventura riflettendo sulla morte dicono che sono solo una briciola e per questo mi disprezzano forse non sono che una volta quando volevi parlare d'amore raccontavi la storia di una moneta perduta e riferendosi dal regno di dio hai preso un seme di senape sulla base dei tuoi insenamenti fa signore che gli uomini mi giovino nelle opere dell'eterno bene e perché comprendano la mia capacità di operare di loro che un giorno fumo insieme a gerusalemme nel tempio di salomone tra le ricchezze dei potenti e dei gioielli scintillanti del santuario e di loro che mi hai visto e mi hai benedetto nelle dita avvizzite di una povera vedova a forma di un soldo questa preghiera era una preghiera psicografata dal medium chico xavier e scritta dallo spirito mei mei oggi riflettiamo sulla seguente domanda nelle condizioni ordinari del matrimonio si tiene conto della legge dell'amore ebbene vediamo ma nell'unione dei dei sessi a fianco alla legge divina materiale comuni a tutti gli esseri viventi vi è un'altra legge immutabile come ogni legge di dio e che è esclusivamente morale è la legge d'amore dio ha voluto che gli esseri fossero uniti non solo dai legami della carne ma dai legami dell'anima perché il reciproco affetto degli sposi si estendesse ai loro figli e perché fossero in due invece di uno solo ad amarli a curarli e da farli progredire di questa legge d'amore si tiene forse conto nelle condizioni solite del matrimonio in nessun modo ciò che si consulta non è l'affetto di due esseri che un sentimento reciproco attrae l'uno verso l'altro tanto è vero che sovente si spezza tale affetto ciò che si ricerca non è la soddisfazione del cuore ma quella del orgoglio della vanità della cupidigia in una sola parola di tutti gli esseri di tutti gli interessi materiali quando a norma di tal interesse tutto va per il meglio si assicura che il matrimonio è conveniente quando le borse sono ben assortite si ritiene che i due sposi lo siano ugualmente e si dice che debbono essere felicissimi ma nella legge civili negli impegni che essa ha fatto contrare possono supplire alla legge dell'amore se non è essa che presiede all'olione ne consegue che ciò che si è unito con la forza spesso si separa da solo il giuramento che si pronuncia all'altare diventa uno spergiuro se pronunciato come una banale formula da questo nascono le unioni infelici che finiscono per diventare criminali doppia sventura che si eviterebbe se nelle condizioni del matrimonio non si facesse astrazione dalla sola che lo sanziona agli occhi di dio la legge d'amore quando dio ha detto i due saranno una sola carne e quando gesù ha proclamato non divida l'uomo ciò che dio ha congiunto queste parole vanno comprese secondo la legge mutabile di dio e non secondo la mutevole legge degli uomini ebbene dopo questa lettura ricordati di parlare con dio in silenzio e poi di bere l'acqua che sarà liquefatta fluidificata alla fine della conversazione con lui bene per oggi è tutto se questo video vi è piaciuto lasciate il vostro like commentate fate domande dateci suggerimenti iscrivete iscrivetevi ai nostro canale su facebook youtube instagram clicca sulla campanella canto per ricevere le notifiche dio vi benedica a tutti fino alla prossima volta bacioni ciao